Luca Fiordidino del Palermo Calcio, seguite la mia storia sui canali social della Lega B. Leggo, ogni tanto leggo molto, guardo molti film, poi esco con amici di infanzia che siamo cresciuti insieme. Tu hai un fratello più grande, uno solo, ci devi in due a casa. E lui adesso ha smesso di giocare? No, lui non gioca più, lui è laureato, si è specializzato in ingegneria aerospaziale, quindi lui studia, io gioco, è più intelligente di me. Mi sono diplomato al geometra statale, ora vorrei iniziare a studiare, però non so quando ma vorrei iniziare. Perché c'era mio fratello il più grande che giocava a calcio e mio padre che allenava anche il bagheria, e quindi da lì ho iniziato a giocare a calcio. La prima volta col Palermo te la ricordi? Sì, certo che me la ricordo. Prima volta come partito o prima volta come allenamento? Prima volta sia come allenamento che come partito. Come allenamento è stato il provino, che è stata forse la cosa più bella, perché ci siamo conosciuti io e Nino Lagumina, l'altro palermitano, e niente, è stata un'emozione veramente che non si può dimenticare mai. L'esordio l'ho fatto quest'anno in prima squadra a Brescia. All'inizio non ci credevo, poi quando sono arrivato in hotello ho visto le immagini, poi dicevo alla fine ci sono riuscito. No, ero tranquillo, ero concentrato. Ma non lo sapevi, non te lo aspettavi neanche in settimana? Sì, un po' in settimana, però niente di che. Ero molto concentrato, alla fine poi ho realizzato il mio sogno. Come rapporti qui in maggio, quello con cui sei più legato è Lagumina, no? Sì, ma anche Andrea Cardi, l'altro palermitano, secondo noi tre siamo veramente molto attaccati perché siamo cresciuti insieme. Andrea è 95, è stato pochi anni insieme a noi, soprattutto in primavera, però è un amico e anche Nino sono degli amici per me molto importanti. Sempre vissuto a casa, poi ho fatto due anni in prestito, che sono andato in prestito a Cosenza e a Lecce e ora sono rientrato di nuovo a casa. Viva a casa con i miei, sì, sì. È un caso, insomma, no? Sì, sì, è un caso, però... Se parli con gli altri alla tua età, preferiscono sempre... No, no, i miei genitori sono parte della mia vita e quindi rimango con loro. E loro vengono a vedere tutte le tue partite? Sì, sempre, sempre. Anche in trasferta? No, no, in trasferta no, però quando ero in prestito anche a qualche trasferta la facevo. Sì, so dove si siede, ogni tanto butto l'occhio e li saluto spesso. Al tenente onorato, il campo d'allenamento del Palermo Calcio. Per te, insomma, è un po' casa tua, no? Eh, sì, 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 sono cresciuto qui. Da quanti anni vieni a allenare qui? No, che mi venga a allenare qua da poco, perché sono in prima squadra da pochi mesi, da sei mesi. Però in allenamento ci allenavamo al calcio Sicilia, ci allenavamo a tanti campetti qui in Sicilia, qui a Palermo. E quindi sono cresciuto in questi campi. Tu quanti anni hai fatto nel settore giardino del Palermo? 12 anni che gioco nel Palermo. Sono entrato nei pulcini. Considerando che ne hai? 21. Siamo passato dalla scuola calcio di Bagheria, cioè la scuola calcio del mio paese. Poi mi è arrivata questa telefonata del Palermo e subito ho accettato con la mia famiglia. Volevamo fare queste esperienze e fin dai pulcini sono entrato nel Palermo. Ma per un palermitano cosa vuol dire giocare nel Palermo? È un motivo di orgoglio, perché ha tanti anni che sognavo di indossare questa maglia in prima squadra e ci sono riuscito. C'è qualcuno dei grandi con cui hai legato di più, che magari ti ha dato qualche consiglio in più? Ma uno in particolare no, un po' tutti. Mi hanno dato qualcosa da imparare, soprattutto io li osservo molto per imparare qualcosa da loro. Ho dovuto cantare una canzone di Claudio Baioni. Ma l'hai scelta tu o non l'hai scelta? No, l'abbiamo scelta, l'abbiamo fatto un duetto, io e il Nino Lagumi. E che canzone avete cantato? Piccolo Grand Amore, questo Piccolo Grand Amore. Tu quale parte facevi? Eh, non mi ricordo, però facevamo un duetto. Ma tu come te la cavi a cantare? Male, male, però lo dovevo fare e quindi l'ho fatto per forza. I nuovi arrivati dovevano cantare, siccome io ero arrivato da poco perché ero stato in prestito e quindi dovevo cantare. Sì, forse il gruppo è la cosa più importante. Ma chi è quello che fa più casino? No, più casino, quello che fa ridere molto è Bellucci. È il più simpatico, in spogliatoio. Sì, fa morire. Ascolto tanta musica, quello sì. Che musica ti piace? Ascolto Eddie Sheeran tanto, un cantante americano Fetty Pop, un rapper, poi tanta musica commerciale, di tutto. Quindi tu sei uno di quelli che prima della partita sta con le cuffie? Sì, sì, in Pullman sì, poi appena si arriva allo stadio stacco tutte le cose. Ma tu in ritiro sei con Lagumi in camera? Sì, sì, ma sì, sempre. Perché io... Sempre, no, sempre stati insieme, sin da piccolino. La sera PlayStation? Sì, ogni tanto giochiamo alla Play, guardiamo dei film. Chi è più forte? Alla Play lui. No, lui è più forte. E i film invece cosa ti piace? Vediamo serie TV, la casa di carta, quella che per ora sta facendo il boom. Poi i shooter, ne abbiamo visti tanti insieme. Sempre magari vi confrontate? No, 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 sempre. Nel senso che nessuno a casa deve vedere altri episodi perché ce li dobbiamo guardare insieme e li in ritiro. Li guardiamo serenamente. Così avete quasi più voglia che arrivi il fine settimana. Sì, sì, dai. In cucina, come te la cavo? No, no, bene, me la cavo bene. Poi c'è la mamma che mi coccola tanto, però ogni tanto anch'io mi metto a cucinare. E qual è il tuo piatto forte? Cucino tanto la carne, pollo, cucinare alla braccia mi piace tanto. E fai, organizzi anche cene con i compagni? Sì, sì, ogni tanto organizziamo, però... Però fuori, non cucini tu? No, no, fuori, no. Però con gli amici ogni tanto a casa mia cuciniamo e cucino io lì. Senti, ma quando fai una bella partita e vuoi festeggiare, cosa ti fai cucinare da mamma? Da mamma pasta a forno... I cose leggere, quindi, insomma. Sì, pasta con le sarde, i piatti tipici padermitani, dai. Quando sei stato fuori, invece, che cosa ti è mancato di più di casa? Un po' tutto, l'ambiente, il calore della mia famiglia, un po' tutto. Però, devo essere sincero, questi due anni mi hanno fatto tanto crescere. Anche stare fuori casa fa crescere tanto. Io, per fortuna, sono andato in due ambienti molto importanti per me e mi hanno fatto crescere tanto.